L'ansia non è la causa della sofferenza, l'ansia è una conseguenza. Sono Sebastiano, sono uno psicologo e quando i miei pazienti che soffrono d'ansia me ne parlano, all'inizio la trattano come se fosse la causa del loro malessere, come se fosse un corpo esterno, per esempio un virus che fa avvenire l'influenza. Ecco, l'ansia fa avvenire questo malessere. Quindi cercano un modo per spazzarla via dalla loro vita, in modo tale da poter tornare a fare quello che facevano prima nel modo in cui lo facevano. Ma l'ansia non viene come l'influenza. L'ansia è proprio la conseguenza, molto spesso, di quello che si faceva prima e che quindi ci indica che qualcosa deve cambiare. Perché questo? Perché l'ansia è la conseguenza di pensieri che fai nel momento in cui cerchi di prevedere degli scenari spaventosi, degli scenari pericolosi, come può essere il rifiuto, come può essere il giudizio delle altre persone. E quei pensieri non li tratti per quello che sono, cioè come ipotesi, ma li prendi per veri, li consideri reali. Quindi per evitare che quegli scenari si verifichino, ti attivi, ti attivi eccessivamente, in modo cronico nel tempo, cercando di tenere tutto sotto controllo, tendendo a fare tutto alla perfezione, cercando di prevedere le tue azioni, le reazioni degli altri, quindi ti aggiusti per evitare il giudizio, per evitare che ci rimangano male, pensando che alcune tue sensazioni nel corpo, per esempio il battito che aumenta, è sintomo di un malessere e che quindi starai male, che non ce la potrai fare. Questa iperattivazione nel tempo diventa caos. Ed ecco che quindi l'ansia si trasforma in disturbo d'ansia, si trasforma in panico, ma non è la causa, è proprio la conseguenza di questi pensieri ansiogeni. Possiamo imparare a regolare l'ansia, a calmarci, per esempio recupera il video del respiro della cannuccia che ho fatto, però poi bisogna andare ad agire sulle cause, su questi pensieri, per poterli portare, riportare ad una forma più aderente alla realtà. E soprattutto quando l'ansia è forte, e quando persiste nel tempo, fatti avanti nel chiedere aiuto e nel lasciare che ti aiuti un professionista perché occorre un intervento, un trattamento psicologico. E ricordati di seguirmi per aiutarmi ad aiutare sempre più persone.